Musica Buongiorno a tutti gentili delle spettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, Buona giornata da Andrea Vignolini a tutti voi, è lunedì 11 marzo 2024 e siamo pronti per leggere insieme i titoli e le notizie principali del giorno sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura la vediamo insieme in Abruzzo, vince il centrodestra, dunque il tanto auspicato successo del centrosinistra in realtà non c'è stato perché il centrodestra ha vinto con un'ampio margine di 7 punti. Il governatore dei Fratelli d'Italia verso il BIS, scritto a una pagina di storia l'illusione del quartiere generale dello sfidante d'Amico, affluenza in calo, secondo le proiezioni, scriveva ieri sera del Corriere della Sera, i primi dati dei seggi, Marsilio avanti di 7-8 punti sul candidato del centrosinistra. Aggiornamento online che vediamo su Corriere.it, vedete elezioni regionali in Abruzzo, risultati in diretta, Marsilio vince con oltre il 53% d'Amico sconfitto, risultati delle elezioni in Abruzzo ormai definitivi. Marco Marsilio, il governatore uscente e candidato del centrodestra, ha vinto con il 53,4% dei voti. Luciano D'Amico, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, si ferma al 46,5%, dunque sono 7 i punti di distacco tra i candidati. Fratelli d'Italia, primo partito, poi c'è il Partito Democratico, esplodio di Forza Italia e sempre rispetto al 2019, forte calo di Lega e Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti sempre con i titoli di oggi sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera che nell'editoriale di Milena Gabbanelli spiega come il Molise sogna di ricongiungersi all'Abruzzo nel data room di Milena Gabbanelli in edicola oggi. Andiamo ancora sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera con invece la fotonotizia a centropagina. Kate, il giallo della foto, i media, è manipolata, la foto diffusa dai reali. Dopo l'intervento chirurgico la principessa Kate si presenta ovviamente così in questa foto che dicono lo scatto sorridente è attornato dai tre figli e lo scatto prima diffuso è stato poi ritirato dalle agenzie di stamba. Sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera con Kiev, replica al Papa, bandiera bianca, non l'alzeremo mai. Questo per quanto riguarda ovviamente il messaggio di Kiev al pontefice che aveva chiesto appunto la pace nel conflitto russo-ucraino. E poi Biden, Netanyahu, nuoce a Israele, queste sono le parole del Presidente degli Stati Uniti. A centropagina la notizia che invece riguarda la Serie A è quello che è accaduto in campo a Via del Mare di Lecce. Follia in campo a Lecce, daversa il tecnico della formazione salentina da una testata a un avversario, rischia la panchina. Il tecnico si scusa e minimizza ma ha preso a testate un avversario. Andiamo avanti sempre con le notizie del giorno sulle prime pagine di oggi. Mentre sfogliamo tutta la rassegna stampa che più tardi ovviamente commenteremo, anche la rassegna stampa sportiva. Eccoci sulla prima del quotidiano La Repubblica. Abruzzo vince la destra, le elezioni regionali, le prime cinque proiezioni danno il Presidente uscente Marco Marsilio. Il netto vantaggio su Luciano D'Amico ha votato solo un cittadino su due. Fratelli d'Italia primo partito 24,9%, affermazione di Forza Italia 13,4%, Lega all'8,4%, il PD raccoglie il 18,4%, male i 5 Stelle 7,1%. Lo sfidante più di così non potevo fare. E poi sempre sulla prima pagina della Repubblica ma l'alleanza PD 5 Stelle esce più solida, intesa vicina per il voto in Basilicata. E poi il commento scrive Francesco Bei. Per l'opposizione una speranza nella sconfitta. Se la vittoria di Marco Marsilio appare netta, al centro-sinistra sarà comunque utile tenere a mente la lezione che viene dall'Abruzzo. Fino a un mese fa la Contea, da cui i fratelli d'Italia erano partiti per la loro conquista della terra di mezzo, era data per persa senza appello. La regione governata da un fedelissimo della Premier non era ritenuta contendibile. La stessa Giorgia Meloni alle politiche aveva scelta di essere deputata abruzzese, confidandone il risultato. Le ultime elezioni regionali, quelle del 2019, del resto erano state una partita senza storia tra il centro-destra vincente col 49,2% e il centro-sinistra al 36%. Arrivava a quasi 20 punti. È importante partire da questa premessa per comprendere l'importanza del voto di ieri, che ha dimezzato la distanza tra le due coalizioni, nonostante la bassa affluenza. Perché, pur incassando una sconfitta, il campo progressista ha comunque conseguito un risultato per il futuro, così spiega la Repubblica sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sulla prima di Repubblica con ovviamente anche il titolo che riguarda l'ira dell'Ucraina per il Pontefice. Mai la resa, la chiesa stia qui. E poi, sempre sulla prima, caro influencer, cosa resta del lusso e dei click, spiega la Repubblica sulla prima pagina di oggi. Andiamo sulla prima della nazione con ovviamente tutte le notizie del giorno. Eccoci qua sull'edizione di Firenze. Abruzzo, Meloni, centra la vittoria e il titolo di apertura vince Marsilio del centro-destra con notevole distacco rispetto ad Amico del Campolargo. Boom di Forza Italia sopra il 14%, la Premier si prende da rivincita sulla Sardegna. Delusione per Conte e Schlein, l'alleanza non decolla, tracollo dei grillini in Abruzzo. A centropagina l'Ucraina al Papa, non ci arrendiamo. Da Mosca ai leader europei le reazioni alle parole di Bergoglio. Con una secchia dichiarazione del ministro degli esteri, Kiev risponde alle parole pronunciate dal Papa sulla possibilità per l'Ucraina di intavolare una trattativa di pace. Bandiera bianca, la nostra bandiera è gialla e blu, non ci arrenderemo mai. Dura reazione anche della chiesa greco-cattolica ucraina. Siamo esausti ma non abbattuti. Di soddisfazione della Russia, il Papa parla all'Occidente. Poi sempre sulla prima della Nazione con Matteo Renzi contro Ursula von der Leyen. Non va votata la conclusione dalla Leopolda. Matteo Renzi chiude la Leopolda a Firenze con un duro attacco alla Presidente europea Ursula von der Leyen. Chiedo di non votarla. Quel modello di Europa è finito. In platea l'ex compagna di Berlusconi, Francesca Pascale. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione. Biden a Netanyahu, fai solo danni, Ramadan di guerra a Gaza. E poi vedete la testata del mister all'avversario. D'Aversa, allenatore del Lecce contro Henry. Questo è accaduto ovviamente a Via del Mare durante la partita di Serie A. Andiamo avanti con le notizie del giorno sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno. L'edizione è quella di Firenze e Empoli. Farmaci più veloci per i cronici è il titolo di apertura. In Toscana stoppa le attese per avere i medicinali in distribuzione diretta nelle farmacie territoriali. La novità riguarda un milione e mezzo di pazienti e parte dal primo aprile. Federpharma è una piccola rivoluzione. A centropagina poi nelle case della salute, psicologo di base, in arrivo i primi dieci. E poi sempre sulla prima del quotidiano La Nazione, massa e lunigiana. Il maltempo semina danni in Toscana. Le zone più colpite, allerta meteo estesa alla giornata di oggi. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno. Nuovi marciapiedi in via Romana, pedoni più sicuri. Siamo a Firenze. E ancora la spaccata ad una vetrina di una profumeria. Via soldi e trucchi. E a Scambici questa notizia che riguarda in particolare la frazione di Badia Settimo. Esplode il boiler, si lancia nel vuoto per salvarsi. È grave, spiega Il Quotidiano Il Tirreno. E adesso andiamo sulla prima del quotidiano Il Tirreno con le notizie che invece arrivano dal Livorno. Addio a Bagnoli, maestro del teatro vernacolare. È il titolo che riguarda Livorno. E poi siamo a Cecina dove per un intervento alla cataratta occorrono sette mesi di attesa. La notizia la leggete oggi sul quotidiano Il Tirreno. Andiamo avanti con le notizie del giorno che riguardano anche lo sport e il calcio. Apriamo dalla segna stampa sportiva con la prima del quotidiano Il Corriere dello Sport Stadio. Qui si regala il titolo Fiorentina, quarto errore dal dischetto. Gli Oriente rovina la festa, un rigore sbagliato e un gol preso al 95esimo. Viola rimontata, finisce 2-2. Ranieri porta avanti la squadra di italiano. Awar realizza l'1-1. Graffio di Mandragora. Bilaghi fallisce il pena di 3-1. Allo scadere l'ex Real sfrutta un'ingenuità. La Champions adesso è a 8 punti. La partita dei rimpianti, scrive Alberto Polverosi nell'articolo di commento. E poi siamo con le altre partite della Serie A. Cupminers gela la Juve, il Milan nel secondo. Allegri frena, Pioli lo sorpassa. Solo 2-2 per Max con l'Atalanta. Doppietta dell'olandese. Pulisic affonda l'Empoli. 1-0. Alle 20.45 questa sera ci sarà Lazio-Udinese. E poi vedete da Versa che follia. È pronto l'esonero testata a Henry dopo il KO col Verona. Una scena incredibile dopo il fischio finale a Lecce. La società durissima. Gesto contrario ai valori dello sport semplici in pole. Per sostituirlo scrive il quotidiano Il Corriere dello Sport Stadio. Andiamo anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport con ovviamente le notizie del giorno. Mi tengo il Milan. Pioli sorpassa e rilancia. È il titolo di apertura. Gol di Pulisic. Empoli battuto. È secondo posto. L'allenatore risponde a Ibra. Voglio restare rosso-nero il più possibile. E poi sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport nel taglio alto. Follia d'Aversa testata e rischio esonero. Il tecnico del Lecce colpisce Henry del Verona a fine gara. Ora gotti o semplici secondo la Gazzetta dello Sport. E poi vedete nel diciamo così sempre richiami in prima pagina. Inzaghi e segreto dell'Inter perfetta. Mercoledì la Champions a Madrid con l'Atletico. E poi intanto quello che accade a Indian Wells con Sinner che non si ferma e vola agli ottavi. Anche Alcaraz va avanti e dunque nel tabellone di Indian Wells prosegue il cammino dell'azzurro di tennis. Ci fermiamo qua per questa prima parte con le prime pagine di oggi e le notizie principali del giorno. Torniamo tra poco su Toscana TV e Firenze TV con Refresh con tutte le notizie di oggi. Restate con noi. Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È lunedì 11 marzo 2024 e siamo pronti per leggere assieme dopo le prime pagine di oggi con le notizie principali del giorno, i quotidiani nelle pagine interne. Andiamo a pagina 2 del quotidiano del Corriere della Sera con la vittoria delle regionali in Abruzzo del centrodestra. La vittoria di Marsilio nella sfida ad Abruzzo è il titolo e il centrodestra stacca il campo largo. Per proiezioni e dati parziali il presidente avanti di 7-8 punti, fratello d'Italia primo partito della regione, seguito da PD e Forza Italia. Ma il tema vero riguarda il fatto che in questo momento, come abbiamo spiegato, il risultato definitivo è proprio questo. Ci sono sette punti di distacco tra il centrodestra e il centrosinistra. Il duello era annunciato sul filo, poi i primi dati hanno dato il quadro di un risultato netto, spiega il quotidiano il Corriere della Sera, che però fa anche un focus, vedete in grafica, sull'affluenza in Abruzzo al regionale del 2019 era il 53,11%, alle politiche del 2022 alla Camera al 63,99%, alle regionali del 2024 al 52,2%. Come vedete c'è sempre la differenza tra le elezioni amministrative e quelle politiche. Scrive Massimo Franco nell'articolo di commento il messaggio per i leader di un'elezione nazionalizzata. È prevedibile che dopo la delusione di ieri tra PD e Movimento 5 Stelle la competizione, se non il conflitto per il primato politico, ricomincerà e sovrasterà i loro rapporti, restituendo l'incompatibilità di un campo largo o giusto che vada da Conte e Fratoianni di alternativa verdi-sinistra fino a Calenda, alleanza verdi-sinistra fino a Calenda. La speranza di una vittoria in Abruzzo aveva oscurato questa realtà. La sconfitta la ribadisce, più cruda di prima, d'altronde. L'incertezza e la speranza di vincere è durata solo poche ore. Poi nel cuore della notte ha cominciato a delinearsi un'affermazione netta della destra. Niente effetto Sardegna, niente vento del cambiamento, scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera di oggi a pagina 2. Andiamo a pagina 3 con il retroscena di Francesco Verderami che spiega Meloni, tira un sospiro di sollievo, le ricadute a sinistra. E dunque ecco il punto. Tocca a Meloni gestire le relazioni della maggioranza dal leader della coalizione, ma ancora di più da Presidente del Consiglio dovrà stabilire quale linea adottare, se continuare a privilegiare la tattica della mobilitazione permanente o puntare piuttosto sull'azione di governo. Ogni opzioni ha le sue controindicazioni, spiega Verderami nel retroscena di oggi. E poi vedete le storie dal territorio, a Trasacco, Mafalda alle urne a oltre 100 anni, elettrice record nell'Aquilano, Mafalda a Lattanzi che è andata a votare a più di 100 anni. E poi il pullman per i fuorisede, questo è un altro tema interessante, il pullman da Napoli ai seggi, il viaggio per i fuorisede. È partito ieri mattina da Napoli un bus con cittadini napoletani residenti in Abruzzo, ad accompagnarli Fulvio Martuscello, coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Francesco Silvestro, ci sono tanti amici che risiedono in provincia dell'Aquila che ci hanno chiesto di andare insieme ai seggi, così votiamo insieme e vinciamo insieme. E poi a Sulmona invece un parto in attesa del voto, la corsa e il parto un'ora dopo. È andato tutto benissimo il racconto ovviamente di questa neomamma di 30 anni che solo un'ora prima si trovava al seggio nella sezione del liceo artistico in attesa del voto. Andiamo avanti sempre con le altre notizie che leggiamo sull'esito delle elezioni in Abruzzo. Finisce la corsa del pacato D'Amico, il candidato del centro-sinistra, in rammarico nel comitato. L'ex rettore sperava anche nell'affluenza, ma il dato è partito bene. Poi è diminuito Luciano D'Amico, 64 anni, nato a Torricella, Peligna, in provincia di Chieti, laurea in economia e commercio, è stato rettore all'Università di Teramo dal 2013 al 2018 per la sua corsa alle regionali, ha raccolto il sostegno del cosiddetto campo largo, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde-Sinistra, Azione Italia Viva. Il miracolo tra i sostenitori, qualcuno sperava nel miracolo, se ci fosse stato il voto disgiunto, magari questo avrebbe accelerato. Poi avete Basilicata, Crepa nel centro-sinistra, Azione, si scelga insieme la ricerca del nome unitario, circola quello di D'Andrea, il consigliere Pittella, coalizione ignorata e dunque attenzione per la scelta del candidato del centro-sinistra in Basilicata, che adesso occupa le pagine dei giornali. Sempre all'interno del quotidiano di Corriere della Sera, siamo a pagina 5, i festeggiamenti del governatore uscente e riconfermato Marco Marsilio. Marsilio festeggia, pagina di storia, noi sottovalutati, la verità ha vinto sulla menzogna. Nella notte il discorso del governatore dei Fratelli in Italia, qui in Italia il campo largo non ha futuro, dice Marsilio. E poi sempre all'interno dei quotidiani di oggi, le reazioni da un lato del centro-sinistra, dalla speranza alla delusione, Schlein, ma restiamo uniti. La leader si sente nella notte con Conte, il crollo dei consensi al Movimento, perché il Movimento a 5 Stelle ha registrato una vera e propria debacle per quanto riguarda le liste, mentre il Partito Democratico è il secondo partito in Abruzzo, dietro a Fratelli d'Italia. Sul territorio la campagna intensa della coalizione per la segretaria ha anche 8 tappe in un giorno, lo scenario dall'esito delle elezioni dipendono anche le scelte degli avversari interni. E poi sempre all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera, l'intervista di Alessandra Rachi a Giovanni Legnini, 65 anni, ex PC, DS, PD, ex senatore e candidato in Abruzzo nel 2019, non cambio idea, il governo si può sfidare con la coalizione larga, spiega Legnini, non prevalgano le divisioni nazionali, c'è stata comunque una rimonta, teniamo in considerazione questo risultato, perché come abbiamo letto prima sull'editoriale di Repubblica, appunto il distacco alle precedenti regionali era praticamente di 20 punti. Premier e ministri in campo, così è partita la rivincita, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera, facendo invece il bilancio di quello che è accaduto nel centro-destra, vedete la foto di tutti i leader che chiudono la campagna elettorale in Abruzzo, la soddisfazione a Palazzo Chigi, nessuna maggioranza possibile senza Fratelli d'Italia. E poi la mobilitazione, la Premier ha investito sulla sfida per superare subito la sconfitta in Sardegna, le forze politiche dietro a Fratelli d'Italia, sfida tra Forza Italia e Lega, azzurri avanti, il partito di Salvini sui livelli del 2022. E poi ad affariitaliani.it parla il generale Roberto Vannacci, che spiega che vari partiti mi chiedono di correre per quanto riguarda le elezioni europee. Continuo a valutare questa opportunità che mi è arrivata dalla Lega, ma non solo e non dico da quali altre formazioni politiche, così ovviamente il generale Vannacci. Sempre all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera c'è l'intervista a Deborah Bergamini, che è vice segretaria di Forza Italia, che spiega che noi insieme da 30 anni, i nostri avversari, solo un cartello elettorale, Bergamini per Forza Italia è un successo vero. E dunque Deborah Bergamini spiega che in realtà la coalizione del centro-destra è rimasta quella, nel centro-sinistra invece le coalizioni variano. Stiamo costruendo un partito sempre più dinamico e vitale, non siamo in attesa, ci confrontiamo. Peraltro c'è anche il risultato importante di Forza Italia in Abruzzo, che ha raggiunto il 14% dei consensi. Andiamo anche all'interno del quotidiano La Repubblica, con ovviamente gli articoli che riguardano l'esito del voto in Abruzzo. Vedete, l'assalto fallito non frena l'alleanza, tra Conte e Schlein indietro non si torna. E dunque, secondo Giovanna Vitale, i due leader comunque riproporranno l'alleanza PD 5 Stelle. La segretaria del PD, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, il leader del Movimento 5 Stelle, il metodo Todde, è quello giusto. Il voto rafforza il patto giallorosso, l'obiettivo dei dem di allargare al centro i movimenti civici, resta il nodo della leadership. Poi sempre sulle pagine interne del quotidiano La Repubblica, con Bonaccini che lancia la corsa dei riformisti alle europee. La nostra gente vuole unità. L'evento a Milano, col sindaco Sala che annuncia, continuerò a fare politica. Gentiloni, il Partito Popolare Europeo, chiuda ai sovranisti, spiega il quotidiano La Repubblica. E dunque la kermesse di energia popolare, che, diciamo così, lancia appunto la presenza dei riformisti del PD alle europee. PD e Movimento 5 Stelle, l'intesa è più vicina in Basilicata per l'Antibardi, pronta una rosa di nomi. Ancora in campo però c'è Chiorazzo, l'imprenditore che non piace ai 5 Stelle. Il sostituto dovrà avere il placet del Movimento 5 Stelle per ovviamente arrivare a questo. E poi questa storia che riguarda, diciamo, il racconto, caccia al voto casa per casa, e il bus di Forza Italia da Napoli per i fuorisede. La corsa delle due coalizioni per portare gli elettori ai seggi, l'idea del forzista Martiuscello, un pullman dalla Campania, con soste nei seggi da Pescara a Roccaraso. I DEM mobilitano nei piccoli comuni e sui social e rilanciando gli sconti sui treni. Queste ovviamente sono state le strategie per portare, diciamo così, le persone al voto. Poi si è discusso molto su, diciamo, la presenza di Giorgia Meloni sabato ai festeggiamenti dell'Ital Rugby che ha sconfitto la Scozia nelle sei nazioni. Vedete, parla il presidente della Federazione del Rugby, Innocenti, che dice lo spot elettorale della Premier negli spogliatoi, nulla di male, lo dico da sinistra, perché in molti ovviamente hanno spiegato che Meloni, presentandosi a quel festeggiamento, ha violato il silenzio elettorale in Abruzzo. Lei e Lolo Brigina nel 2000 festeggiavano in campo all'esordio del sei nazioni, racconta il presidente della Federazione del Rugby. Perché l'invito negli spogliatoi? Stiamo parlando del capo del governo e di un ministro. In tribuna ho chiesto a Meloni di sedersi accanto a me in Malagò. Il presidente del CONI non voleva stare in prima fila. Alla fine della partita le ho proposto di salutare i giocatori negli spogliatoi. E il ministro Lolo Brigida? Il ministro Lolo Brigida era già venuto negli spogliatoi dell'Italia del Rugby in ottobre, al termine della partita dei mondiali giocata a Lione. C'era anche il ministro Abodi, e gli azzurri erano appena stati travolti dalla Nuova Zelanda per 94-17. Molti quella sera sarebbero scappati, per non essere associati a una giornata del genere. Lui invece è venuto e ha rincorato i ragazzi. Però non c'erano le telecamere. Sabato all'Olimpico qualcuno ha scattato delle fotografie, qualcun altro ha fatto dei video. C'era una gran confusione. Credetemi, era solo un momento di gioia. Altrimenti dovremmo dire che anche gli scozzesi, perdendo, hanno collaborato. Sega il presidente dell'Ital Rugby, innocenti. Andiamo avanti invece con le altre notizie sulle pagine dei quotidiani nazionali, e lo facciamo con il Corriere della Sera, che ci porta invece alla chiusura della Leopolda ieri a Firenze. Von der Leyen non va rieletta, poi Renzi attacca Forza Italia. Il leader di Italia Viva sono dei grigi burocrati. Pascale lo incorona, unico erede di Berlusconi, perché vedete proprio la presenza ieri della Leopolda di Francesca Pascale, ex consigliere di Forza Italia ed ex compagna di Silvio Berlusconi. E poi sempre su questa notizia troviamo un'intervista invece sul Quotidiano della Repubblica al senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi. Eccolo qua. Renzi, Meloni spieghi perché non vuole inchieste sui dossier. Crosetto e Nordio hanno chiesto una commissione di inchiesta. Se Fratelli d'Italia dice no, è evidente che il blocco viene dalla Premier. Intanto Von der Leyen non va rieletta, ha fallito sulla riforma istituzionale europea sul Green Deal, mettendo in ginocchio le aziende. E proprio su questo passaggio ci vediamo l'intervento di Matteo Renzi nel servizio di Toscana TG, che è il numero uno regia. Ursula von der Leyen, a mio giudizio, non deve essere confermata alla guida dell'Unione Europea. Se sarò eletto al Parlamento Europeo, proporrò di votare contro Ursula von der Leyen, chiedendo al Partito Popolare Europeo, a chi avrà la maggioranza, di individuare una leader e non una follower, follower dell'ideologia. L'attacco alla Presidente della Commissione Europea è il punto centrale del discorso di Matteo Renzi a chiusura dell'edizione numero 12 della Leopolda. Il leader d'Italia Viva, candidato in tutte le circoscrizioni alle europee di giugno, passa in rassegna tutti gli errori della Von der Leyen, considerata troppo ideologizzata e a cui contrappone Alcide De Gasperi. L'unificazione dell'Europa è necessario distruggere più che costruire. Dobbiamo distruggere un mondo di pregiudizi, un mondo di pusillanimità e di rancore. Alcide De Gasperi nel dopoguerra sono le parole che io mi tatuo nell'anima per fare questa campagna elettorale. L'attacco alla Presidente della Commissione Europea è anche un attacco a Forza Italia. Quella visione europeista che in Berlusconi c'era oggi è diventata una visione da grigi burocrati quale è Antonio Tajani, quale è Ursula von der Leyen, qual è la scelta di una Forza Italia che io voglio combattere a viso aperto in Veneto. L'obiettivo di Renzi è raggiungere il 5% dei voti. Sull'idea di una lista unitaria lanciata da più Europa lancia l'apertura e la provocazione. Noi ci stiamo. Se c'è la richiesta da parte degli altri di un passo indietro dei parlamentari in carica la infiocchetto. Io ci sto. Ma quello che deve essere chiaro è che noi non da domattina quando partirà una campagna di affissione in tutta Italia ma da oggi noi siamo in partita per andare a fare il risultato che serve non al nostro ego non alla nostra ambizione ma all'Europa all'Italia al futuro della politica. Non mancano attacchi al governo che ha aumentato le spese e le tasse ed educa l'intolleranza. Il tema delle istituzioni viene prima di Giorgia Meloni viene prima di Fratelli d'Italia viene prima dei cognati d'Italia che fermano i treni perché sono in ritardo. Infine le questioni di casa con la mancata alleanza tra PD e Italia Viva per la scelta del sindaco di Firenze Renzi avverte Nardella sulle eventuali ripercussioni sull'attuale giunta. E se pensate di minacciarci vi buttiamo fuori di giunta siete voi che siete fuori di testa a fare queste cose non noi fuori di giunta. Alla segretaria nazionale Schlein riconosce correttezza e coerenza ma la condanna alla sconfitta. Ma io ho una simpatia naturale per Elie Schlein c'ho un piccolo problema ritengo la classe dirigente del Partito Democratico una classe dirigente che condanna quell'esperienza a perdere per i prossimi decenni. Esattamente come ha fatto la sinistra inglese che quando aveva Blair ha vinto quando ha preso Ed Miliband e Jeremy Corbyn ha perso anche le elezioni condominiali non soltanto le elezioni politiche. Andiamo avanti sempre con quello che è accaduto ieri all'Aleopolda all'interno del quotidiano della Repubblica Pascale per Silvio Matteo era un genio ha spiegato ieri Francesca Pascale ex fidanzata di Silvio Berlusconi non un invito casuale ma un pezzo del disegno di Renzi per trovare i 250 mila voti che ritiene mancarli per fare il 4% quelli berlusconiani e alla voce chi si rivede all'Aleopolda è tornato il finanziere Davide Serra spiega il quotidiano La Repubblica. Andiamo all'interno del quotidiano invece il Corriere della Sera con le altre notizie del giorno perché abbiamo parlato a lungo delle elezioni in Abruzzo e c'è questa notizia che riguarda invece il Molise il Molise che ora pensa al ricongiurgimento è il data room di Milena Gabanelli è appena partita la raccolta firme per tornare in Abruzzo la regione si era staccata nel 1963 dopo lunghe battaglie 60 anni più tardi è un territorio spopolato e pieno di debiti e per questo il Molise vorrebbe diciamo tornare nella regione Abruzzo il Molise disavanzo della regione meno 573 milioni di euro costo del personale della regione 30 milioni e 700 mila euro saldo imprese aperte chiuse meno 188 debito sanitario 138 milioni addizionale IRPEF 3,33% sui redditi superiori ai 28 mila euro i medici che mancano 84 i medici 140 invece gli infermieri andiamo avanti sempre con le notizie del giorno all'interno del quotidiano La Repubblica ovviamente con le notizie che riguardano anche in questo caso da un lato le influencer studentesse ingegnere e modelle chi tenta di arricchirsi su Holyfans più degli abbonamenti valgono gli extra il segreto del successo è avere tanti follower spesso conquistati su social generalisti come Instagram e TikTok e vedete anche i numeri di Holyfans 250 milioni gli iscritti alla piattaforma nel 2023 3 milioni 200 mila i counter creator 98% la percentuale di contenuti per adulti oltre 300 i creator che guadagnano un milione di dollari all'anno più a gennaio 2024 un miliardo le visite da utenti di tutto il mondo 44 milioni invece i contenuti pubblicati e vedete anche chi sono ovviamente le ragazze più seguite su Holyfans Madi Gio di nazionalità rumena cresciuta a Varese la 29enne vive da 3 anni in Svizzera Giulia Ottorini bolognese 22 anni ha 3 milioni di follower tra Instagram e TikTok accusata di evasione fiscale Eleonora Bertoli anche lei bolognese al centro dell'indagine della finanza a 27 anni e 2 milioni di follower Martina Vismara influencer 24enne appassionata di moda a 17 anni aveva già fondato il suo brand a 7 milioni di follower andiamo a occuparci invece da Holyfans a una ciclovia molto contestata la ciclovia sul lago di Garda che ora nessuno vuole è un mostro d'acciaio scrive Giampaolo Visetti dunque un'opera sostenibile che in realtà nobile per la mobilità sostenibile che in realtà non è sostenibile secondo ovviamente gli ambientalisti vedete il tratto già realizzato dal Limone al Trentino a destra visto da sopra a sinistra visto dal lago proprio nelle foto ovviamente che pubblica oggi la nazione ambientalisti cittadini e sindaci dicono no al percorso pericoloso costoso e sfregia uno dei paesaggi più belli per quanto riguarda appunto il lago di Garda poi queste parole di Massimo Ceccherini sulle quali c'è stata molta polemica ieri diciamo non ci si è soffermati poi il Rai su questo l'Oscar vinceranno gli ebrei bufera Ceccherini sceneggiatore di Io Capitano le parole shock su Rai 1 protesta la comunità ebraica è il più bello della cinquina solo che forse non vincerà perché vinceranno gli ebrei quelli vincono sempre la dichiarazione di Massimo Ceccherini cosceneggiatore di Io Capitano di Matteo Garrone candidato per il il film internazionale la vigilia della notte degli Oscar ha provocato reazioni sdegnate la frase che ha gelato lo studio durante il programma ieri pomeriggio da noi a Rota Libera su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini è questa sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso ha detto l'attore toscano per poi aggiungere l'imbarazzante riferimento al favorito la zona di interesse dell'inglese ebreo Jonathan Glaser il film ha già vinto il gran premio della giuria a Cannes ha trionfato ai britannici BAFTA sia come miglior film che come film in lingua non inglese essendo girato in tedesco polacco e lituano racconta la ghiacciante normalità del comandante del campo di Auschwitz Rudolf e di sua moglie Edwig tra scampagnate con figli pranzi con gli amici feste di compleanno la vita quotidiana della famiglia tedesca ma appena al di là di un muro c'è il fumo dei forni crematori e dal campo arrivano gli abiti dei pellici dunque questo è il dato il film che contende l'Oscar e c'è questa battuta decisamente infelice di Massimo Ceccherini andiamo avanti con le notizie del giorno lo facciamo con il quotidiano La Nazione le notizie che arrivano dalla Toscana eccoci qua la chiappa pediatria il titolo a pagina 12 della Nazione Regionale il progetto pilota che li assume all'ASL e li fa crescere all'ospedale predatico Mayer svolta dopo le fughe l'accordo in tre punti siglato con la Regione prevede anche interventi ai piccoli pazienti al Palagi a Pontianniccheri e porta nel sale parto gli specializzanti per formare più neonatologi spiega il quotidiano La Nazione e dunque le misure per combattere appunto la carenza dei pediatri siamo in Toscana con il maltempo meteo impietoso colpite massa lunigiana allagamenti alberi caduti allerta gialla estesa anche alla giornata di oggi Val di Bisenzio ancora in crisi per la strada interrotta disagi anche sull'Aurelia alle province servirebbero capacità di bilancio e risorse anche straordinarie per poter intervenire spiega il presidente Lorenzetti dell'Unione delle province andiamo avanti con i titoli del quotidiano La Nazione di Firenze seccata nove mesi dopo si riparte da zero ancora mistero intorno alla vimba sparita all'ex hotel Astor il procuratore capo riconvoca alcuni testimoni tra questi la peruviana Isabel mamma di un'amichetta della piccola l'ultima ad averla vista il 10 di giugno e poi a centropagina vedete la notizia che arriva da Badia a sé doppio e paura un boiler esplode in un appartamento di Scandicci due inquilini si gettano dal secondo piano sono in ospedale e ancora sempre all'interno del quotidiano La Nazione la guerra del centrosinistra finisce appiattate e dopo il 9 giugno questo si domanda Erika Pontini sulla Nazione di oggi e poi sempre sulla Nazione ritornando sui temi della politica Renzi, Piccona, PD e PM Saccardi in regione perché dovrei lasciare domani il dossier Stefania sul tavolo della riunione consigliare Ceccarelli Matteo non ha idee vuole solo poltrone per i suoi andiamo all'interno del quotidiano La Nazione con appunto le parole del diciamo del segretario del partito democratico cittadino Andrea Ceccarelli Matteo non ha idee vuole solo poltrone per i suoi questo è il contrattacco e poi Renzi bordate su Franchi e Procura PD di sinistra neanche Mancini il leader di Italia Viva a testa bassa uno scandalo i 55 milioni per lo stadio le multe soltanto per fare cassa poi per fare cassa poi gli strali contro la magistratura per il caso dell'ex Astor i PM sapevano chi c'era lì e poi l'altra notizia che riguarda appunto il dossier Saccardi che agita la regione toscana Gianni lavora alle deleghe congelate l'area più oltransista del PD chiede il sidoramento della vicepresidente il governatore cerca la mediazione deleghe rappresentanza in frigorifero fino al post voto Scaramelli non vedo incompatibilità Saccardi ha tutta l'esperienza per continuare a lavorare bene in regione mentre gioca la sua partita alle comunali sostiene Tadaviva il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli prudente ora senso di responsabilità ma c'è anche una dignità da rispettare spiega il numero uno del PD in consiglio regionale e poi il racconto dei nove mesi di buio sul destino di Cata scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex hotel Astor occupato e intanto la procura torna al primo giorno il capo Spiezia risente personalmente alcuni testimoni tra questi Isabel la donna che ha visto per ultima la bimba il 10 giugno dallo scambio di persona alla vendetta per questioni legate alla droga interrogatori anche in Sud America e poi per il racket per il mercato delle camere nell'hotel occupato 4 peruviani rischiano di andare a processo siamo poi a occuparci della cronaca con ovviamente il fatto di quello che è accaduto a Scandicci in particolare a Badia VII nella frazione di Borgo ai Fossi scoppia il boiler paura in casa due si lanciano dalla finestra Scandicci residenti della frazione di Borgo ai Fossi svegliati dal botto i feriti caduti dal secondo piano spiega il quotidiano la nazione e poi vedete questa notizia che arriva invece da Settignano lupo vicino alle case sbranata una femmina di capriolo è accaduto diciamo a pochi passi da via della diciamo accaduto in via della capponcina a Settignano e poi siamo invece all'isolotto con la cronaca l'incubo delle spaccate non si placa infranta la vetrina della profumeria in via Pisana con un tombino presi i cosmetici e i soldi del fondocassa spiega la nazione e poi ci occupiamo invece di quello che accade nel quartiere di Legnaia dove il rione cambia pelle spiega la nazione e la latteria diventa un sexy shop nel quartiere le botteghe lasciano il posto a nuove insegne del fast fashion e i residenti faticano ad accettarlo andiamo avanti sempre con le notizie del giorno che leggiamo sulla prima pagina della Repubblica di Firenze case e negozi nella caserma dei Lupi il comune dal via all'operazione alla Gonzaga al confine con Scandicci previsti 30.000 metri quadrati di housing sociale e 5.000 di alloggi realizzati da privati intanto vedete Renzi avvisa il Partito Democratico se ci cacciate dalle giunte siete fuori di testa e poi l'inchiesta madre e figlia disabili maltrattate dalla badante sempre all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze con la politica Renzi contro Nardella ancora su multestadio il Pirdì cercava poltrone il leader di Italia Viva sulla candidatura di Saccardi avverte Dem se ci cacciate fuori dalle giunte siete fuori di testa martedì al gruppo democratico regione la questione della richiesta di dimissioni per la vice governatrice e poi parte l'operazione per trasformare l'ex caserma dei Lupi di Toscana firmata la delibera che dà il via all'intervento alla Gonzaga serviranno 200 milioni tra fondi pubblici e privati previsti più di 30 mila metri quadrati di housing sociale 5 mila di case private uno studentato un hotel e dei negozi e poi sempre all'interno del quotidiano della Repubblica vedete il tour della legalità non piace agli studenti e la gita non si fa al Sassetti Peruzzi pochissime adesioni per il viaggio a Palermo nei luoghi simbolo dell'antimafia il preside i ragazzi di Quarta volevano andare a Praga con le Quinte ma non era possibile però diciamo così hanno rifiutato questa gita a Palermo nei luoghi simbolo dell'antimafia andiamo avanti sempre all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze con la cronaca madre e figlia disabili maltrattate e derubate dalla badante e dal fratello per i due la procura ha chiesto il rinvio a giudizio i sospetti dell'amministratrice di sostegno spiega il quotidiano la Repubblica e ne dico l'oggi poi ci si occupa anche di imprese in particolare della miniera Star Hotels così la definisce la Repubblica nella pagina di Firenze Economia ogni 3 euro incassati più di uno è di utile lordo crescita straordinaria del 2023 che lascia alle spalle il lockdown e la guerra in famiglia chiusa dall'acquisto della parte di Elisabetta Fabri nella quota del fratello 304 milioni di euro ricavi del 2023 di Star Hotel 31% le BTDA 30% gli hotel della catena spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze andiamo sempre all'interno dei quotidiani di oggi lo facciamo anche con il quotidiano il terreno e le notizie che arrivano dalla regione partendo con una notizia che riguarda i medicinali cosa cambia stop all'attese per i malati è il titolo per i malati cronici medicinali più veloci in farmacia l'AIFA l'Agenzia Italiana per il Farmaco sta stilando la lista dei farmaci che oggi si possono ritirare solo in ospedale lo scopo è facilitare l'accesso a over 65 persone con disabilità con disabilità e malati oncologici e vedete quali patologie in particolare per il diabete le malattie reumatologiche e le malattie cardiovascolari per questo tipo di farmaci sarà la possibilità di reperirli in farmacia e non solo ovviamente all'ospedale e poi psicologi di base arrivano i primi 10 nelle tre ansle parte il progetto sulla nuova figura nelle case della salute e poi siamo sempre all'interno del quotidiano il tirreno con la notizia che arriva dalla Toscana torna l'incubo maltempo frane e strade bloccate è il titolo del quotidiano il tirreno la provincia di Massa Carrara il governo taglia i soldi del PNRR ma qui servono interventi strutturali poi siamo a Livorno porto e aree industriali spiragli per gli incentivi il consiglio dei ministri approva il regolamento delle ZLS meno burocrazia e agevolazioni per chi vuole investire qui spiega il quotidiano il tirreno di Livorno e poi siamo alla cronaca la tragedia muore in casa a 40 anni babbo di tre bambini Francesco Volpi aveva lavorato alla CNA lo zio Samuele un nipote fantastico viveva per la famiglia Francesco Volpi ex dipendente della CNA di via Martin Luther King morto improvvisamente a 40 anni nella foto insieme a due dei suoi tre figli spiega il quotidiano il tirreno e poi l'addio a Aldo Bagnoli re del vernacolo Bagnoli era una leggenda del palcoscenico e si è spento ieri dopo una lunga malattia Giuseppe Pancacini ho smesso di fare teatro perché lui non poteva più affiancarmi il racconto ovviamente del suo grande collega a Livorno poi sempre con un cantiere che farà discutere ha già fatto discutere farà discutere molto quello di Via Grande la pavimentazione in Via Grande va rinviata a dopo le elezioni appello alla giunta di alcuni cittadini e associazioni solo lavori di contorno e vedete nella foto ovviamente i portici di Via Grande siamo a Cecina con l'ospedale sette mesi di attesa per un intervento alla cataratta il primo posto utile a Livorno questi tempi sono esagerati mi rendo conto che non sia grave ma la situazione mi sembra sia diffusa che riguardi anche tre altre prestazioni e poi nell'area vasta gli utenti in lista per le operazioni chirurgiche sono 25.552 11.349 solo nell'Asl Nord-Ovest poi sempre all'interno del quotidiano il Tirreno con le notizie che arrivano da Rosignano Aurelia SOS dei commercianti al buio da un anno e mezzo chi lavora a Castiglione chiede di installare nuovi lampioni poi siamo a Piombino obiettivo riapertura la formula legata agli eventi affidata alla Parchi la messa in sicurezza dell'ingresso spiega il quotidiano il Tirreno e poi siamo all'Elba infine con la spiaggia di Capo Sant'Andrea regge la barriera a difesa della spiaggia Gioiello un mese fa sono stati posizionati 75 sacchi di iuta e vedete proprio com'è cambiata la spiaggia dal 13 dicembre fino al 6 marzo nella sequenza ovviamente del quotidiano il Tirreno questo per quanto riguarda la spiaggia meravigliosa di Capo Sant'Andrea all'Isola d'Elba ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco con tutte le notizie del giorno anche con un'ampia rassegna stampa sportiva per il pareggio della Fiorentina ieri 2 a 2 a Franchi contro la Roma ne parleremo tra poco su Toscana TV e Firenze TV con Refresh restate con noi buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questo lunedì 11 marzo a cominciare dall'autostrada in A11 prudenza per nebbia banchi tra Firenze Peretola e Firenze Ovest raccomandiamo di moderare la velocità nebbia banchi anche in Fipili tra Firenze e Ginestra sempre nella 11 codi a tratti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 ci spostiamo in Fipili per incidente rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Ara Est in direzione Livorno siamo al traffico urbano di Firenze ricordiamo che la T1 nei giorni dal lunedì a giovedì resta parzialmente interrotta in orario notturno per i lavori della nuova linea San Marco in particolare la T1 non circola tra le fermate fortezza e strozzi fallaci dalle 23 fino a fine servizio ossia fino a mezzanotte e mezzo sono attivi bus sostitutivi ulteriori dettagli sui nostri canali social Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana città meropolitana di Firenze e comune di Firenze per ora è tutto buon viaggio Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh buona giornata da Andrea Vignolini è lunedì 11 marzo 2024 e siamo pronti per la rassegna stampa sportiva di oggi in collegamento con noi c'è Duccio Mazzoni buongiorno e ben trovato ciao Andrea buongiorno a tutti collega di Levi Radio e della Repubblica questa mattina dalla redazione di Levi Radio perché più tardi andrete in onda con Caffè Viola e quindi commenterete insieme agli ascoltatori il pareggio di oggi allora il pareggio di ieri sera solo un pareggio la Fiorentina crolla proprio sul più bello è il titolo della Repubblica di Firenze di oggi Viola raggiunti nel finale della Roma 2 a 2 Champions più lontana Reti di Ranieri e Mandragora Biraghi sbaglia un altro rigore spiega Matteo Dovellini nel suo pezzo poi Giuseppe Calabrese firma il commento un'altra occasione persa per sognare in grande e poi le pagelle di Duccio Mazzoni sottil scatenato sulla fascia serata di gala per Gonzales anche se poi bisogna interrogarsi Duccio sullo stato di Gonzales che è successo al talento della Fiorentina ma guarda più che risponderti personalmente rispondo con quello che ha detto Italiano ieri in conferenza stampa ha detto che il giocatore gli ha fatto sentire dell'avvisaglie che aveva del dolore e quindi l'italiano ha preferito toglierlo prima che si potesse fare male un'altra volta in maniera grave e quindi insomma è stato un cambio abbastanza conservativo devo dire che comunque Gonzales aveva fatto un buon primo tempo e il vero interrogativo è la tenuta fisica di questo giocatore perché ci avevano detto che era tornato alla grande dall'infortunio di dicembre ma mi sembra che insomma anche da un punto di vista di rendimento abbastanza altalenante non l'abbia proprio superato questo infortunio quindi peccato peccato perché sinceramente stava facendo veramente bene c'è comunque la situazione fisica anche legata ad Arthur che ieri aveva una caviglia non gonfia ma in grado di giocare 10 minuti e che è stato messo soltanto alla fine purtroppo entrando nell'episodio del 2 a 2 quindi insomma sul discorso fisico credo insomma che ci siano delle riflessioni da fare perché riguardano tutti i giocatori diciamo più importanti che la Fiorentina ha a disposizione Setti Duccio tu hai dato 7 abbelotti nei tuoi voti le pagelle ovviamente sono elemento di discussione però c'è un dato per carità è vero che si è procurato il rigore che ha fatto la sponda vincente per il 2 a 1 di Mandragora però il rigore non se l'è sentita di batterlo perché si è proprio visto nelle immagini che ha detto a Biraghi prego tira te quindi può anche provare a batterlo belotti il rigore non è un problema e poi l'altro tema è che sì per carità partita è importante però l'attaccante deve segnare lui di gol ne ha fatti uno in otto partite e beh questo sì cioè nel senso il 7 ha anche un voto se vogliamo generoso Andrea dato quando la Fiorentina stava vincendo 2 a 1 e poi confermato nonostante il 2 a 2 insomma perché poi c'è anche questo da dire lo sai bene come è la chiusura dei giornali soprattutto nelle partite notturne per cui sì era per dare un voto positivo forse eccessivamente positivo poi è chiaro che Belotti deve far gol Belotti deve far gol perché è stato chiamato per far gol poi è chiaro che con questi tipi di giocata aiuta la squadra perché poi alla fine se ieri finiva 3 a 1 Belotti era entrato in tutte in due delle tre reti sul rigore l'ha tirato Biraghi perché quando manca Nico Gonzales è il rigorista designato da italiano l'ha detto ieri e quindi peccato perché perché comunque insomma anche Belotti un gol con il Frosinone alla prima due traverse una contro Lecce una contro Lazio e poi e poi poco altro insomma non che ieri abbia giocato male però sono d'accordo quando una punta dovrebbe far gol ma io credo che ormai dopo Vlaovic qui a Firenze le punte si giudichino non solo e soltanto dai gol quanto da tutto il resto il resto delle cose l'anno scorso Gabriele Iovic cambiati in estate tanto criticati comunque 30 gol in due l'avevano fatti andiamo avanti sempre con i titoli di oggi sulle pagine ovviamente dei quotidiani sportivi siamo sulla Nazione illusi e beffati così no guardate quante ho con quante con quante ho scrive questo no la Nazione Nicola oggi nel QS Viola in vantaggio Biraghi sbaglia un rigore pari del Roma al 95esimo gara a crepacuore che rimpianti spiega la Nazione all'interno Ragnani e Mandragora non bastano Biraghi sbaglia un rigore pari al 95esimo grandissimo primo tempo Viola il difensore di testa e la squadra spreca almeno un paio di occasioni Auar la rimette in sesto Rolli segna ma c'è il quinto penalti fallito e giallorossi la riagguantano in estremis la sorte e la dura legge del dischetto se la gioia si trasforma in amarezza spiega Stefano Cecchi mentre Benedetto Ferrara che rabbia due punti buttati via ma inferire sulla squadra è ingiusto scrive Benedetto Ferrara sei d'accordo che inferire sulla squadra è ingiusto Duccio? Secondo me Andrea bisogna sempre rispetto sicuramente quello ha scritto Benedetto però bisogna secondo me fare delle analisi perché altrimenti si corre il rischio di valutare la Fiorentina soltanto rispetto al proprio grado di gradimento verso la società o verso l'allenatore quindi se le cose vanno male è colpa della società per chi difende l'allenatore se le cose vanno male è colpa dell'allenatore per chi difende la società quando poi in un pareggio di 2 a 2 e per 2 a 2 ci sono tutto un insieme di errori per esempio la squadra si è vero ha dei limiti però comunque è una squadra capace di mettere sotto la Roma che era la formazione più in forma del momento insieme all'Inter quindi un po' di valori ci sono ieri purtroppo hai perso hai buttato via una vittoria per quel rigore sbagliato da Biraghi e secondo me per una gestione del finale che anche da parte dello stesso italiano non è stata secondo me fatta bene perché a quel punto insomma trambi al primo minuto di recupero avevano poco senso hai allungato la partita quindi hai dato un altro minuto in cui poi la Roma di fatto ha segnato se i giocatori sono stanchi probabilmente si possono togliere anche a 10 minuti dalla fine non importa al primo minuto di recupero è vero che il pallone non è riuscito è tutto per cui c'è un insieme di colpe la squadra la squadra sta facendo il campionato che tutti si aspettavano secondo me ha amplificato il negativo perché a dicembre era arrivato quarto è riuscito a essere veramente un altro classico Cosimo Zetti responsabile delle pagine sportive della Nazione spiega ora sbagliare non è più permesso nel commento di oggi sei d'accordo oppure il campionato che è un campionato mediocre che consente sempre di rientrare alla fine darà ancora occasione alla Fiorentina Ma è chiaro ogni partita che passa hai meno punti a disposizione però io non farei nemmeno drammi perché la Fiorentina ha pareggiato la Roma in casa cioè alla fine si ha perso due punti all'ultimo minuto però la Fiorentina al suo campionato lo sta buttando via a gennaio quando ha perso a Reggio Emilia l'unica squadra prima di domenica aver fatto vincere il Sassuolo ha perso a Lecce 3 a 2 unica squadra aver fatto vincere recentemente il Lecce ha pareggiato a Empoli con una prestazione raccapricciante in quella partita quindi secondo me i punti che poi alla fine uno può come dire contestare sono quelli poi giochi con la Roma ci sta di pareggiare il Torino è pareggiato e il Torino è andato a pareggiare a Napoli domenica è l'Atalanta quindi se perdi a Bergamo sì è la fine per qualcuno di tutti ma è una cosa che nel calcio può essere fisiologica quindi secondo me non c'è stata la giusta critica nel momento in cui forse andava fatta e adesso siamo a marzo ci si sveglia tutti e si vede che la squadra è distante in classifica poi bisogna anche sottolineare che abbiamo affrontato una delle squadre più in forma del campionato in questo momento magari ce lo siano dimenticati però comunque la Roma è stata una delle squadre più in forma del campionato rimpianto Viola sollievo Roma è il titolo della gazzetta all'interno Fiorentina amanti 2 a 1 Biraghi sbaglia al rigore gli Oriente supera il 95esimo Regneri segna De Rossi torna la difesa a 4 e trova l'1 a 1 qua O'ar dopo il gol di Mandragora Viola sprecano e vengono beffati alla fine spiega il quotidiano la gazzetta dello sport Italiano Amaro altra occasione buttata via il tecnico Viola è l'incubo dei rigori in allenamento siamo infabillibili ma ora stiamo crescendo davvero un tema è questo Duccio cioè in allenamento battere rigore non è la stessa cosa che batterlo in partita perché cambia il peso psicologico da quegli 11 metri cioè in allenamento spesso si dice no quel giocatore è fortissimo in allenamento poi lo vedi in partita e dici ma cosa ci racconta il mister di turno sui rigori è ancora peggio perché tu quando batti il rigore in allenamento sei libero di testa non lo vivi con la stessa intensità della partita c'è poco da fare cioè questa è una discriminante diciamo fondamentale se si considera l'aspetto del rigore non so se sei d'accordo no no sono d'accordo anche perché se ti vuoi allenare un qualcosa in allenamento da un punto di vista tattico lo provi e in qualche modo poi la domenica si rivela tale il rigore non lo puoi provare cioè puoi provare a tirare ma dovresti mettere 35.000 persone intorno a te come contesto o avversari per poter fare in modo che sia uguale alla domenica e poi c'è questo dato strano che la Fiorentina ha sbagliato gli ultimi 5 rigori del campionato ma in Coppa ne ha tirati 9 con Parma e Bologna non ha sbagliati nemmeno uno anche con giocatori insomma un po' così pensa al rigore che tirò ieri rimina quindi è un dato su cui secondo me riflettere però Duccio Guas mi posso permettere quando batti quei rigori lì tu speri sempre magari che poi dopo no c'è il tuo compagno che magari lo realizzi al posto tuo in campionato se lo sbagli lo sbagli non c'è nessuno che poi va però è anche vero che se te sbagli un rigore in una lotteria rischi di andare fuori mentre in campionato hai comunque non ti dico una seconda opportunità c'è una partita da giocare a meno che non sia il novantesimo c'è una partita da giocare senti ma tu adesso a chi faresti battere il prossimo rigore? perché che si fa qua? si continua con le gerarchie batte chi se la sente oppure bisogna un po' perché questo è un tema c'è il prossimo rigore per la Fiorentina chi batte? guarda te l'ha detto prima quando analizzavamo la pacella di Belotti per me bisognerebbe battezzare l'attaccante e farglielo tirare all'attaccante perché comunque avrebbe un doppio significato cioè segnare e rompere questa maledizione ma allo stesso tempo far segnare l'attaccante dicevamo prima quando ci siamo sentiti stamani che Vlaovic divenne Vlaovic anche perché Prandelli gli fece tirare i suoi due primi rigori della sua gestione rigori che avevano un peso specifico notevolissimo e da lì poi Vlaovic ha quasi sempre segnato dal dischetto però anche lì si torna a un discorso che per qualcuno i gol sul rigore di un attaccante contano meno ma invece sono pesanti uguali insomma valla a dire oggi che contano meno i gol sul rigore va bene una beffa di rigore il titolo del Corriere Fiorentino nell'edizione tutta Viola del lunedì dopo l'ennesimo errore dal dischetto Fiorentina che si fa raggiungere dalla Roma nel recupero e Viola restano ottavi occasione sprecata 11 metri di impianti il titolo all'interno dell'articolo e poi grinta discussioni e gol la testa calda di Ranieri infiamma anche il Franchi il centrale firma il gol numero 12 da palle inattive e riscatta la serata di Bucarest in cui aveva litigato con Buonaventura e ieri ennesimo gol di Luca Ranieri incredibile ma è così si conferma diciamo un giocatore fondamentale per la Fiorentina Ranieri e beh poi 5 gol in una stagione sono tanti 12 gol di testa insomma se gli attaccanti segnassero come difensori probabilmente la Fiorentina lotterebbe per la Champions insieme al Bologna invece si deve attaccare anche a questo tipo di cose poi sul discorso Ranieri-Bonaventura sinceramente è inutile tornarci l'importante insomma è che quando uno va in campo vada bene poi se ci sono delle discussioni amen fanno parte del gioco ecco guardando un attimo al futuro a breve termine a giovedì sera polizia in centro e più steward Firenze blindata per il Maccabi Haifa giovedì il ritorno di Coppa attesi centinaia di israeliani servizio d'ordine potenziato bisogna arrivare allo stadio presto se ho capito bene Duccio come funzionerà? sì bisogna arrivare entro le 18.15 quindi mezz'ora prima del fischio inizio sarà le 18.45 questo perché il controllo sarà particolarmente stringente credo che con il divieto di zaini borse e power bank da portare allo stadio si voglia togliere diciamo il metal detector classico perché sarebbe stato anche difficile mettere un metal detector per ogni per ogni porzione dello stadio quindi faranno dei controlli magari con altri strumenti ma è chiaro che saranno controlli approfonditi giovedì a Budapest furono abbastanza intensi anche per noi della stampa Andrea lì c'era proprio un metal detector attraverso cui facciamo passare insomma tutti tutti i nostri zani come se fossimo in aeroporto quindi insomma credo che verrà fatto la stessa cosa anche al ritorno velocemente andiamo anche all'interno del quotidiano il Tirreno Fiorentina la beffa è di rigore vedete Conto da Roma Viola avanti due volte prima con Ranieri e poi con Mandragora l'ennesimo errore dal dischetto cancella i sogni di vittoria degli oltre 30.000 del Franchi Lukaku impegna subito Terracciano ma poi viene quasi annullato dalla difesa gli Oriente spegne il volume di uno stadio che pareva in festa dopo una gara comunque positiva poi siamo ancora all'interno dei quotidiani di oggi sulla Fiorentina eccoci qua il Corriere allo Sport Stadio Roma di Ferro Viola gelata Italiano avanti i Goranieri De Rossi reagisce nella ripresa a rete di Awar poi succede di tutto Mandragora ritrova il vantaggio Biraghi sbaglia un rigore Le Oriente pareggia all'ultimo respiro non abbiamo detto Duccio di Mandragora la sua è stata una rete importante sì che vista quella di giovedì e che testimonia così come è successo l'anno scorso e questo è un giocatore che viene fuori nella seconda parte di stagione perché anche l'anno scorso Mandragora divenne essenziale per la Fiorentina nel ciclo di vittorie che partono da febbraio a marzo quindi bravo Rolando sta venendo fuori alla distanza poi l'editoriale di Alberto Polverosi che spiega la partita dei rimpianti facendo riferimento proprio al Parigi della Roma Fiorentina Amara punti buttati l'allenatore Viola rammaricato per la vittoria sfumata italiano rigori sbagliati in allenamento non c'è bisogno di dirlo siamo infallibili il rosso a Mancini se De Rossi lo ha tolto vuol dire che temeva qualcosa questo per quanto riguarda la seconda ammunizione a Mancini che poteva innescare la sua espulsione Duccio sì sì quello oggettivamente le parole di De Rossi valgono più di qualsiasi analista arbitrale che ci voglia fare regolamento per cui insomma poteva essere buttato fuori Mancini il rigore del 2 a 1 per la Fiorentina è un rigore che viene dato nel calcio moderno ma che in gergo viene chiamato rigorino non è andato benissimo Massa ieri nella direzione di gara soprattutto in questo episodio poi ricordo ovviamente il Corriere dello Sport Stadio che non è mancato allo stadio un momento di commozione al tredicesimo minuto quando la Curva Fiesola ha esposto uno strescione in memoria di Davide Astori con scritto Firenze mai ti dimenticherà Davide capitano per sempre anche lo spicchio dei tifosi giallorossi ha risposto intonando il coro Davide Astori così ovviamente il Corriere dello Sport Stadio senti Duccio a proposito ovviamente delle prossime partite insomma andare a giocare dopo la Coppa ci auguriamo che la Fiorentina superi ovviamente l'impegno Maccabi-Aifa senza problemi però c'è da andare a giocare a Bergamo e l'Atalanta sta molto bene come abbiamo visto ieri sera a Torino Beh sì sì squadra informissima bisognerà vedere anche per loro quanto il match di ritorno con lo Sporting di Lisbona porterà via in Europa League giovedì perché anche loro hanno la qualificazione aperta come la Fiorentina anzi loro più aperta perché hanno fatto 1-1 a Lisbona però è una partita difficile in uno stadio insomma sempre molto ostico un altro scontro diretto per cui è una partita del 7 perdi i rischi di creare un solco a questo punto della stagione incolmabile verso il quarto barra quinto posto e ricordiamo Andrea per carità può valere niente ma l'anno prossimo se l'Italia continua così può significare Champions quindi la Fiorentina è giusto guardi al quarto posto ma anche al quinto a quinto perché il coefficiente diciamo con un po' di coefficiente di vantaggio c'è e se la flotta dell'Italiana va avanti sono buone notizie da questo punto di vista allora grazie a Duccio Mazzoni per essere stato con noi grazie mille buona giornata e buon lavoro grazie a te Andrea a Caffè Viola su Levi Radio tra poco grazie Duccio allora andiamo avanti sempre con i titoli di oggi eravamo rimasti al quotidiano del Tirreno sull'edizione dell'Elba siamo a Firenze con vedete una casa di comunità nel cuore del quartiere 2 Verrazzano realizzati un centro di salute mentale un consultorio e un polio ambulatorio investendo investimento di quasi un milione di euro e questo è molto importante perché vedete proprio nella parte di Viale Volta dove appunto viene realizzata la casa di comunità casa della salute poi siamo a Scandici si buttano dalla finestra dopo l'esplosione di un boiler grave un uomo che per paura si è lanciato dal secondo piano e ancora sempre a Firenze con via romana presto più sicura spiega il quotidiano il Tirreno grazie ai marciapiedi più larghi accolta la richiesta di commercianti e residenti il tratto sarà chiuso in estate e poi sempre all'interno del quotidiano il Tirreno Alfredo di Cirolamo firma un intervento teniamoci strette le pietre d'inciampo l'imbrattamento di via Pagnini dimostra che la società non è immune al negazionismo ricordiamo ovviamente le pietre d'inciampo sono dei piccoli brocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone lucente poste davanti alla porta delle case nelle quali vivevano le persone poi deportate nei campi di sterminio siamo a Empoli con il quotidiano il Tirreno lotta al degrado e un palazzetto ecco l'agenda dei politici cittadini dillo al candidato le priorità per il mondo sportivo e per i comitati e poi siamo al tema invece che riguarda Montespertoli opere pubbliche scuola e servizi Mugnaini corre ancora da sindaco Alessio Mugnaini sindaco di Montespertoli ovviamente si ricandida sostenuto dal centro-sinistra il primo cittadino ha ufficializzato la candidatura la campagna d'ascolto delle esigenze dei bisogni dei cittadini porterà alla stesura del programma e poi siamo ancora in provincia di Pisa dove in particolare a San Mignato Giglioli vince e corre per il bis non temo i candidati villeggianti il sindaco batte Mastroianni festeggia con Gianni e lancia la stoccata a Gussetti questo per quanto riguarda le primarie del PD siamo a Grosseto invece con il turismo in particolare i camping di lusso e quando il campeggio è di lusso la Maremma non incontra rivali il glamping come viene chiamato nella top ten internazionale le strutture di Castiglion della Pescaia e di Capalbio 4 i camping e i glamping premiati in provincia 42 campeggi per 47.600 posti retto 2 milioni e mezzo di pernottamenti in provincia e poi siamo a Pisa matrimoni tariffe più care ma anche alcuni piccoli sconti quanto costa sposarsi con rito civile nelle sedi comunali spiega il quotidiano il Tirreno aumenti differenziati per residenti o non residenti cifre ridotte la domenica per la location sul litorale spiega il quotidiano il Tirreno nell'edizione di Pisa andiamo sulla Nazione di Arezzo il titolo di apertura lo vedete coltellate fuori dalla discoteca esplosione di violenza nella notte l'aggressione in fuga bloccato a Sansepolcro l'aggressione in fuga bloccato a Sansepolcro il ferito invece è gravissimo e poi nel taglio alto maxifurto in stile guerriglia come negli assalti all'oro strada chiusa con due tir gli sviluppi del colpo alla pelletteria di lusso e le indagini a centropagina invece torna la paura l'ombra della baby gang sull'aggressione a Sant'Agostino le indagini della polizia e poi l'allarme sanità pochi medici di famiglia parla il presidente dell'ordine oggi sulla Nazione nell'edizione di Arezzo andiamo avanti sempre con l'edizione locale del quotidiano della Nazione siamo a Pistoia e Montecatini maturità per 2500 inizia il countdown per gli studenti pistoiesi chiamati all'esame di Stato e poi l'intervento del Vescovo Monsignor Tardelli di Pistoia caporalato siamo davanti a una barbarie spiega il Vescovo di Pistoia Monsignor Fausto Tardelli che non lesina le parole di forte preoccupazione sempre il titolo di apertura come aprire un'azienda la guida del quotidiano la Nazione classifica intanto dei servizi l'ospedale San Jacomo agli ultimi posti per quanto riguarda la sanità siamo a Prato incubo 325 incognita maltempo qua si parla ovviamente della strada regionale 325 ancora flagellata dalle frane i lavori sulla frana potrebbero subire una pausa forzata figline passano a tre le fasce per i camioncini e poi Prato Farma le farmacie per i bambini da oggi nelle Loiz niente IVA sui pannolini Prato Farma decide di azzerare l'imposta sui prodotti per l'igiene dell'infanzia Rocchi è un segnale sempre all'interno del quotidiano anche delle notizie che riguardano Prato lo facciamo anche con notiziediprato.it sito molto seguito e apprezzato vediamo la notizia principale che leggiamo in questo momento accusato dell'ultimo ride di spaccate in centro preso e subito portato in un centro di rimpatrio spiega il quotidiano notiziediprato.it che poi si occupa anche del Prato che batte il borgo Sandonnino per 2 a 0 e si allontana dalla zona play out andiamo anche sulla nazione di Lucca pioggia evacuate due abitazioni in città 30 mm fino a 100 in Garfagnana paura per uno smottamento a San Martino in Freddana e poi sogno mondiale special Olympics raffica di medaglie e poi nel taglio alto l'ex capogruppo del PD Marcucci torna sul palco della Lopolda insieme nella battaglia europea siamo anche all'edizione di Via Reggio e Versilia della Nazione che spiega per i 550 anni dell'artista i maghi della carta pesta coinvolti in un progetto l'idea manifestata dal governatore Gianni a un convegno del PD a Pertasanta un modellino che mostri un'opera di Michelangelo rimasta incompiuta questo per i 500 anni di Michelangelo ci fermiamo qua per questa edizione di Refresh di oggi noi torniamo puntuali come sempre domani mattina a partire dalle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'agulio di una felice giornata Ale grazie a tutti